I pochi eletti che a Los Angeles l'hanno già visto fanno sbavare gli appassionati di tutto il mondo, ma il popolo, che la forza sia con lui, deve resistere solo fino a mercoledì 16 dicembre per vedere il nuovo episodio. Star Wars, il risveglio della forza, è stato proiettato in anteprima mondiale e con direttive di massimo riservo ai giornalisti in sala. Lucasfilms potrebbe fare il maggiore incasso nella storia del cinema. Sono eccitatissimo, dice un fan, nell'ultimo Star Wars c'è il cast originale. È come se lo Star Wars con cui siamo cresciuti fosse tornato, la gente non sta nella pelle. In sala per il pubblico, venerdì 18 negli Stati Uniti, in Italia, Francia, Regno Unito, sin da domani. C'è il pubblico, venerdì! Cosa qui sta andando in laдержazione? Questa è la stagionare? Questa è la stran